Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. È un mese a marzo. È un mese per la Madonna. E basta un vero ciclo, e c'è una donna. È un peggiorno, lungo la tua giornata. Come la giornata, con una mela in giornata, che ti ritieni un po' e scrivi una triacleta. Le chiedi con un figlio, che è ancora un figlio sui. Applausi 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 Dopo, la scuola è fatica, bianca, tutta la tua. Ma lo ha detto, e ha detto ancora, l'ampigiatore. In teo c'è una luce, come uno scarbozzone a punta, e un motore, un motore troppo buono. Applausi Applausi Tre. Ho giugnato mia madre, per la locale. All'altra, in una strada, in cui fa la corda, in cui è la sera della Madonna. La giugniva, a scuola, in cui è la sera della Madonna. L'era della Madonna. E di qua, con un interminabile che diceva il tè verde, e un oggi in mezzo a giugno. di qua. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.